Essendo un maniaco di cinema, leggendo i resoconti del Festival di Cannes, ho letto che oltre ai film c'era anche questo documentario del regista Roznizza, un documentario di circa due ore, su Piazza Maida e tutti i giornali italiani riportavano con valutazioni molto positive questo documentario, ci siamo posti l'obiettivo di portarlo in Italia e di darne una prima espressione.